Oggi desidero discutere con voi di tre problemi apparentemente insormontabili per quanto concerne l'economia degli Stati Uniti d'America e di come questo a un certo punto potrebbe portare a un crash dei mercati finanziari o di quello azionario. Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale. Non vuole questo essere un contenuto previsionale, io non ho la benché minima idea di ciò che accadrà nel prossimo futuro, non lo so e lo ammetto perché questo bisogna fare. Allo stesso tempo non è un video catastrofista, io continuo a rimanere investito, sono esposto in maniera importante sugli Stati Uniti d'America, ho i miei portafogli eccetera eccetera. Ho portato qui sul canale più volte dei segnali molto positivi, ho parlato anche di segnali molto negativi in prospettiva su quelle che sono le economie nel mondo, su quello che sono gli Stati Uniti d'America eccetera eccetera. Non voglio mai far finta che sia tutto quanto rosio, perfetto o tutto quanto un disastro, cerco il mio equilibrio. Però oggi voglio concentrarmi con voi su tre problemi che sono quasi del tutto ignorati dal mercato, se ne parla veramente poco, si fa finta che sia tutto quanto sostenibile e che non si trova mai a intervenire. Invece per risolvere questi problemi, quando il pettine, quando i nodi arriveranno al pettine, come si suol dire, magari li si potrà anche risolvere questi problemi ovviamente, ma non senza dolore, dolore inteso in ambito finanziario, economico, fiscale e così via. Quindi fatte tutte quante le premesse del caso, andiamone a discutere insieme. Inizio. Il primo problema è il grande debito che aumenta continuamente a livello federale. Ora andiamo un po' a vedere in alto a sinistra il contatore del debito nazionale americano. Ci troviamo su usadebtclock.org ragazzi, l'orologio che misura l'aumentare del debito americano costante. Sarebbe l'ammontare, ma in realtà ormai l'aumentare. E poi ci sono tutte quante le singole voci. È davvero incredibile. Concentratevi sulla somma iniziale in alto a sinistra. È assurdo. Mentre sto parlando, praticamente ogni 2-3 secondi aumenta di 100.000 dollari, guardate. Ora, qualcuno di voi potrebbe farmi notare. Va bene Gianluca, ma tutto sommato è abbastanza normale. In quanto l'economia americana, in quanto quindi il GDP e ovviamente la massa monetaria aumentano nel tempo. E quindi anche il debito lo fa proporzionalmente. Ecco, il problema è proprio questo. Lo fa o no proporzionalmente? Beh, direi che la risposta è no. Difatti, seppur il GDP americano aumenta notevolmente, è aumentato in maniera considerevole negli anni, guardate la proporzione del debito pubblico americano, quindi il famoso federale, rispetto al GDP, quindi al PIL, in termini percentuali. Se nel 1980 il debito aveva un peso del 30%, si è confrontato con il GDP, era questa la proporzione, ad oggi siamo arrivati al 122% e vi è stata un'impennata incredibile, esagerata, dal 2008-2009 ad oggi. Addirittura, secondo molti economisti e analisti, questo è quello che accadrà, guardate il grafico, da qui ai primi anni 50 del nostro secolo. Cioè non ci si stupirà assolutamente se addirittura questo livello arriverà a toccare il 180%. Adesso, come si fa a combattere tutto quanto questo? Ora ci arriviamo, però, prima, concentriamoci su quello che è il problema, perché a parte l'aumentare incredibile, ci sono degli interessi da pagare, questo è debito che praticamente, si possiamo dire, è sotto forma di presse, di obbligazioni emesse, quindi bisogna pagare degli interessi a chi ha comprato il debito, a chi sta finanziando il governo degli Stati Uniti d'America. E gli interessi si fanno sentire, soprattutto ad oggi, dopo qualche anno, in cui comunque i rendimenti obbligazionari sono aumentati. Siamo arrivati a toccare addirittura un 14% di spesa totale del governo americano semplicemente per pagare gli interessi, e questa aumenta sempre di più nel tempo. Capite che non è sostenibile, non possiamo andare avanti così a tempo indeterminato? Addirittura ad oggi la seconda voce per spesa, e se continuerà così, potrebbe diventare la prima. Ad oggi si spende di più per gli interessi, invece che magari per la sanità, o per le assicurazioni sanitarie, o addirittura per la difesa nazionale, e sappiamo gli Stati Uniti quanto investano in questo settore. Se continuerà così, si andrà a prendere il primo posto, e riuscirà a scalzare anche la previdenza sociale. Quindi cerchiamo una soluzione. Le soluzioni sono poche, a dire il vero, e sono ben note. O si riesce ad aumentare tantissimo il GDP o il PIL, ma in realtà non riesce a stare dietro all'aumento del debito. Difatti, seppur ogni anno vediamo i Stati Uniti che crescono del 2, del 3, del 4, dell'1, assai meglio, ad esempio, di tanti altri paesi sviluppati, dell'Europa, dell'Italia, comunque non sono dei valori così alti. Va a perdere, ovviamente, i punti percentuali rispetto al debito. Lo abbiamo visto. E non si può fare molto di più. È già una grande economia, non è una piccola economia emergente. Quindi questa non è la soluzione. Si possono fare altre cose. O si va a tagliare considerevolmente la spesa, ma non credo che siano questi i programmi degli Stati Uniti d'America, o di nessun presidente, o di nessun governo. Infatti abbiamo visto anche qual è la previsione. D'altronde, se non si vogliono massacrare i cittadini in qualche voce, ad esempio, niente, sanità, tagliamo tutto definitivamente, penso sarebbe abbastanza un problema impopolare, o magari, niente, non spendiamo più in difesa, o non diamo più le pensioni, fine della previdenza sociale. Capite? È un problema. Quindi diventa anche un qualcosa di impopolare. Chi lo fa? Lo fa, non so, lo fanno i repubblicani, lo fanno i democratici, e poi penso che per 50 anni voterebbero sempre gli altri, gli americani, c'è questo rischio. E quindi ci sono anche dei problemi politici, e poi vogliono sempre essere i più forti del mondo, e bisogna spendere e espandere. Non credo che lo faranno. Forse a un certo punto, però si sarà, diciamo che sarà forzata questa cosa. Per questo dicevo all'inizio, sì, si possono risolvere questi problemi, ma il dolore è finanziario, economico. Oppure, andiamo avanti, è fiscale. Qual è un'altra soluzione? Ragazzi, vi massacro di tasse. Più entrate, più gettito fiscale, per sistemare un po' i conti. Oppure un mix di queste cose. Taglio di là, aumento le tasse di qua, e si cerca una soluzione. Ora, c'è un problema, ragazzi, imminente. Ecco perché, vi dico sempre, bisogna cercare di concentrarsi su alcuni argomenti, e non far finta che non esistano. Io non sto facendo delle scommesse, o distruggendo il mio portafoglio, in relazione a quello che vi sto raccontando. Ovviamente no. Ho scelto la mia set allocation strategica, a fine della storia. Però, anche a livello mentale e psicologico, voglio essere preparato, voglio essere cosciente dei problemi, che bisognerà affrontare. Guardate qui. Cosa accadrà ai tagli fiscali di Trump nel 2025? Magari molti di voi non lo sanno, ma nel 2017, Trump, non dico che rese gli Stati Uniti un paradiso fiscale, ma ci siamo andati abbastanza vicini. Qualcuno di voi si ricorderà il Tax Cuts and Jobs Act del 2017, che apportava una profonda revisione a tutte quante quelle che sono le metriche fiscali, le politiche fiscali, il sistema fiscale degli Stati Uniti d'America. La liquida dell'imposta sulla società fu ridotta dal 35% al 21%. Le aliquide dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono state ridotte e le detrazioni standard vennero aumentate. dopodiché si è visto con l'analisi del 2018 che questi tagli avrebbero dato una spinta all'economia, ma all'effetto si sarebbe esaurito rapidamente e il prezzo da pagare in relazione a tutto quanto questo sembrerebbe essere stato enorme. Quindi deficit incredibili, si parla di trilioni di dollari, quindi sembrerebbe non sostenibile. Adesso queste riforme scadranno, queste riduzioni, queste agevolazioni, questi cambiamenti che furono fatti nel 2017, scadranno nel 2025. E non sta scritto da nessuna parte che verranno rinnovati. Primo perché non sappiamo se Trump vincerà, secondo anche laddove riuscisse a vincere non sta scritto da nessuna parte che riuscirà a rinnovare questi suoi tagli fiscali, questa sua politica fiscale. Non sta scritto da nessuna parte, anche perché nel frattempo il deficit è aumentato a dismisura. E laddove accadesse questo, qual è il problema? Una riduzione degli utili di chi? Delle aziende. Ad esempio, è normale. O anche della ricchezza dei cittadini. Semplicemente tutti iniziano a pagare più tasse che abbiamo meno soldi in tasca. E se io mi vado a leggere, ad esempio, anche il bilancio di una società, di un'azienda, potrei improvvisamente trovarmi nel 2025, nel 2026, da qualche parte, in qualche trimestrale. Dico, Dio, ma come mai vi è stata questa contrazione degli utili? Ed è un problema fiscale. Non è tanto magari un problema dei margini sul singolo prodotto, sul singolo servizio, o sull'intero fatturato. E se si riducono comunque gli utili, bisognerà anche andare a rivedere quelle che sono le giuste valutazioni, le giuste quotazioni delle aziende. E potrebbero subire una contrazione in termini di quotazione di mercato. Ecco perché, vi dico, a un certo punto, potrebbe provocare dolore anche nei mercati azionali. Potrebbe provocare, a un certo punto, un crash. Non solo questo, ma potrebbe crearsi una piccola tempesta perfetta, a un certo punto. Eppure nessuno lo considera, nessuno ne parla. Probabilmente non accadrà niente. Ma è un problema reale. Che c'è? E vedremo se verrà risolto oppure no. Ora, andiamo a vedere anche un'altra situazione. Ad esempio, è collegata un po' a questa situazione comunque degli interessi, dei rendimenti obbligazionari, di tutte quante queste politiche, eccetera, eccetera. E di quanto hanno agevolato, abbiano agevolato in passato i cittadini. Oltre al problema fiscale, c'è anche il problema dell'ambiente d'asse di interesse. Abbiamo assistito a degli stimoli incredibili negli anni trascorsi. Il famoso ZIRP, ragazzi, ovvero una politica a tassi zero. E molti si chiedono, ma ci si ritornerà? Oppure è stato un qualcosa di straordinario? Perché se è stato un qualcosa di straordinario, in quanto anche questo magari non è così sostenibile, eccetera, eccetera, comunque dovrà risettare quelle che sono state le abitudini di cittadini e aziende, che provengono da un decennio, fatto salvo diciamo l'eccezione degli ultimi due anni, comunque provengono da un decennio a tassi zero o bassissimi. Ed era festa sia per i finanziamenti in termini aziendali, sia per i finanziamenti dei privati, dei cittadini, per accendere un mutuo e tutto quanto. Questo ha ovviamente stimolato il mercato della casa, il prezzo delle abitazioni, e ovviamente gli investimenti delle società. E quindi potrebbe essere una festa un po' più triste rispetto al recente passato. Ora, prima di addentrarci nei prossimi due punti critici che voglio raccontarvi, è chiaro che potresti aver già considerato, pianificato nella tua mente di investire in modo più prudente o forse credi che il mercato azionale come quello statunitense continuerà il suo trend fortemente rialzista senza grandi ostacoli. Indipendentemente dalla tua prospettiva, lasci che ti spieghi perché Freedom24 potrebbe essere la soluzione perfetta per te. Da un lato i conti di risparmio di Freedom24 offrono un'opzione sicura per proteggere i tuoi soldi dalle fluttuazioni dei mercati azionari. Difatti puoi guadagnare un rendimento annuo del 3.64% sul tuo saldo in euro e del 5.34% sul tuo saldo in dollari. Inoltre, se scegli di bloccare i tuoi risparmi per 3, 6 o 12 mesi, il rendimento può aumentare addirittura fino al 5.9% in euro e all'8.8% in dollari. Questi piani sono garantiti, autorizzati e protetti dall'investor compensation fund assicurando che i tuoi risparmi siano al sicuro indipendentemente dalle condizioni di mercato. D'altro canto, se non credi in una crisi economica degli Stati Uniti e sei disposto a correre qualche rischio, come ad esempio faccio anch'io, ho dei soldini parcheggiati inelicolente da un conto risparmio ma allo stesso tempo sono molto investito sul mercato azionario. Ecco, Freedom24 offre accesso alle azioni statunitensi con un'opportunità imbattibile. Difatti, fino al 31 agosto 2024 Freedom24 ti offre una promozione esclusiva. Se finanzi il tuo account potrai ricevere fino a 20 azioni gratuite con un valore unitario massimo di 800 dollari utilizzando il codice promozionale WELCOME. Nella pagina che ti sto mostrando ci sono tutte le istruzioni del caso. Non perdere questa opportunità clicca sul link in descrizione per poter accedere a tutto quanto questo e atterrare sulla pagina che ti sto mostrando e così potrai scoprire come Freedom24 possa aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari. Ma riaccomi di nuovo qui a schermo in quanto vi voglio rompere le scatole con il secondo problema. Queste cose che vi sto elencando secondo me sono un po' come la polvere sotto al tappeto sembra che la casa sia pulita ma in realtà se andiamo a indagare c'è un bel po' di sporcizia. Quindi andiamo a vedere questo secondo problema si tratta degli immobili commerciali in particolar modo degli uffici chi mi segue da un po' di tempo sa come io vado a studiare molto il settore dei trasti immobiliari comunque sia uno di quei settori in cui investo in cui cerco di applicare le mie conoscenze i miei studi mi piace approfondirlo quindi vado a indagare i singoli settori un paio d'anni fa ve lo possono confermare gli studenti del master delle rende del mio percorso formativo se siete interessati link sotto in descrizione sanno bene come io sia scappato da questo settore perché cominciavano ad arrivare i primi dati inquietanti e poi ad oggi scopriamo che le cose siano andate di male in peggio inoltre basta applicare un po' di logica della serie tutte quante le reazioni del mondo del lavoro post pandemico hanno portato tantissime persone a lavorare smart working non vi è più la necessità o almeno comunque non vi è più quella di una volta di avere degli uffici e ora con questa slide vi sto mostrando i posti vacanti in termini percentuali degli uffici cioè vuoti senza che ci sia nessuno all'interno senza che siano occupati senza che ci sia un inquilino è davvero incredibile quello che sia accaduto con le linee rosse possiamo vedere la situazione al primo trimestre 2024 con le linee quelle grigie la situazione al primo trimestre 2021 e con quelle azzurre al primo trimestre 2019 guardate che disastro soprattutto nell'area di San Francisco di Dallas di Atlanta è veramente clamorosa la percentuale qui stiamo veramente con un terzo degli immobili vuoti innanzitutto vi voglio mostrare l'aumento delle insolvenze lato uffici ed è veramente clamoroso guardate qual è la piega che stiamo prendendo probabilmente quella della crisi finanziaria del 2008 ma non ci sono questi problemi negli altri settori immobiliari riguarda propriamente gli uffici ed è un disastro e chi è che se la sta passando male ma soprattutto piccole e medie aziende che si erano finanziate per lo più in anni non sospetti magari semplicemente pochi anni fa per comprare questi immobili vuoi perché la loro attività fosse quella di investirci e locarli vuoi perché appartenessero proprio agli asset dell'azienda stessa in quanto li andava ad utilizzare a metterci dentro semplicemente i propri lavoratori e quindi ad oggi si trovano in gravissima difficoltà il valore di questi immobili sta precipitando e sono vuoti sono per lo più vacanti ora non è così per tutti ma c'è un problema veramente grande e chi chi li ha finanziati soprattutto queste piccole e medie aziende beh banche regionali e qui stiamo vedendo l'etf delle banche regionali che non sconta ancora questo problema attualmente anzi ha festeggiato tantissimo negli ultimi non dico all'inizio agosto ma sicuramente lo vediamo qui da questo grafico è un etf che quindi apparentemente è l'espressione di un paniere di banche regionali americane quotate in borsa comunque ha vissuto per ora un 2024 positivo e ha avuto un bel ritracciamento ai primi di agosto ma ha festeggiato alla grande fra metà giugno e fine luglio come mai ma a seguito di tutte quante quelle che sono le convinzioni di una nuova politica meno restrittiva da parte della fed quindi i tagli dei tassi di interesse un ambiente un po' più favorevole per tutti quanti dovrebbe sostenere l'economia ecco perché ha festeggiato ma non sta ancora incontrando questa eventuale crisi degli immobili commerciali è chiaro bisogna vedere qual è l'impatto potrebbe non essere così devastante ma poi sappiamo che quando si innescano queste situazioni e magari del genere vanno a provocare non poca noia a tutto quanto il mondo economico e finanziario quindi non possiamo far finta che questa situazione non esista e che sia impatto zero ora cambiamo discorso e veniamo al terzo problema è quello che è definito da molti analisti come consumatori stanchi consumatori esausti ovvero che non hanno più la volontà o la capacità di poter spendere come fino a poco tempo fa e presto dovremmo accorgercene come mai tale affermazione tale asserzione beh da alcuni dati in arrivo e da alcune dichiarazioni di aziende molto sensibili che hanno davvero il polso della situazione riescono a fotografare un po' in diretta le abitudini di chi? dei consumatori dei cittadini dei retail dell'americano medio essenzialmente ad esempio la Home Depot va a dichiarare come sembrerebbe che gli americani stiano rimandando quindi a tempo così da definire da definirsi le spese quelle più importanti che solitamente sono abituati a fare in un'azienda come questa allo stesso tempo Starbucks ha fatto segnalare comunque una contrazione delle vendite una riduzione di quello a cui eravamo abituati quindi sempre un'espansione in realtà delle vendite invece si sono arrestate c'è stata una contrazione insomma dietro i mestri che non vedono più una propulsione verso l'alto e anche questo è un termometro significativo la stessa Nike comunque ha una visione estremamente negativa del futuro a parte poi quelle che potrebbero essere delle problematiche specifiche di singole aziende comunque hanno una visione negativa molte società o comunque stanno vedendo che i consumatori sono molto ma molto più attenti rispetto a prima e che non hanno più l'intenzione non spendono più facilmente come eravamo abituati ad esempio la stessa McDonald's ragazzi ha esteso l'offerta di un menù a 5 dollari era una promozione ma non l'ha cancellata l'ha estesa proprio per continuare a trascinare nel suo interno i consumatori perché altrimenti erano guai capite bene anche questo ripeto è un termometro significativo ma come mai sta accadendo questa cosa qui innanzitutto stiamo osservando l'aumento del tasso di disoccupazione non è ancora stellare non è ancora da urlo ma abbiamo superato la soglia psicologica del 4% e stiamo continuando ad accelerare verso l'alto quindi abbiamo raggiunto il 4.3 stiamo in ascesa questo è inevitabile nel 2024 noi stiamo vedendo una disoccupazione che aumenta costantemente mi ricordo ve ne ho parlato anche tante volte ora qui non ve lo sto mostrando ci comincia anche ad essere un numero significativo di americani che è passato dal full time al part time e quindi questo va a segnare anche un'eventuale contrazione di alcune categorie per quanto riguarda il reddito ma guardiamo poi un'altra situazione addirittura qua mi devo fare più piccolino stiamo vedendo la percentuale del tasso di risparmio dell'americano medio e non riesce più a risparmiare quindi va risparmiando tantissimo nel 2020 2021 in quanto era costretto a stare a casa si poteva fare ben poco e stavamo nel lockdown o comunque in situazioni simili il governo comunque ha sostenuto i cittadini americani tantissimo e quindi enorme capacità di risparmio i soldi si sono spesi e siamo arrivati al punto che la capacità è ben inferiore rispetto all'epoca prepandemica lo vediamo qui si vede dal grafico e quindi questa è la capacità di risparmio proprio il tasso di capacità di risparmio ora vediamo invece proprio i risparmi che ci sono i risparmi sono finiti guardate quanto si erano innalzati qui nel 2020 nel 2021 ora i risparmi non ci stanno più ci sono ridotti ai minimi termini sono anche questi ben inferiori all'epoca prepandemica e quindi voi capite che un consumatore che sta lì dice diamine non riesco più a risparmiare e i miei risparmi sono finiti anche se ho la mentalità dell'americano medio a cui piace spendere e utilizzo la carta di credito insomma capite bene che mediamente uno comincia a stare un po' più attento e quindi questo potrebbe alla lunga essere un problema ecco non è da sottovalutare in prospettiva futura cioè non voglio far finta come vi dico io che non esistano questi problemi esistono e come e quindi ne abbiamo parlato eppure il mercato azionario comunque insomma non le sta scontando un granché veniva da una valutazione molto alta 22 qui sto prendendo il forward PA ragazzi dell'S&P 500 la correzione di fine luglio inizio agosto ha un po' migliorato la situazione quindi ha portato questo valore al di sotto di 20 poi nell'ultima giornata abbiamo visto un rimbalzo quindi stiamo attorno a 20 meglio di 22 però è un valore molto alto laddove queste condizioni continuassero a peggiorare insomma andassero a concretizzare un problema più forte generalizzato a livello economico si cominciasse a parlare di recessione quindi insomma bisogna sempre rimanere attenti semplicemente questo nulla di più ragazzi prima di salutarvi ovviamente vi ricordo la promozione di Freedom24 sotto il link in descrizione per ricevere 20 azioni in omaggio con i codici promozionali welcome scade il 31 agosto quindi insomma affrettatevi laddove lo desideraste io vi ringrazio per essere giunti fino a qui se i miei contenuti vi piacciono vi invito a lasciare un like a iscrivervi al canale fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti di quello che ci siamo detti vi auguro il meglio nella vita negli investimenti un buon ferragosto e a prestissimo grazie a tutti